Questa preparazione è quello che ti darà la grinta, la forza per affrontare tutte le partite che arrivano adesso. Sono arrivato, ho cominciato subito a lavorare forte e mi sono sentito molto bene. Penso che non sono indietro con rispetto alla squadra, perché anche in Colombia dopo 5-6 giorni di stare fermo ho cominciato di nuovo a lavorare. Non è che mi sono staccato molto dal lavoro, quindi sto bene fisicamente. Era molto importante arrivare a questo punto bene e cominciare così bene subito. È molto importante partire dal primo giorno con la squadra, dalla prima partita, perché sicuramente il lavoro e conoscere di più i compagni per me sarà molto importante. Al gennaio ho cercato di aggregarmi, di entrare subito nella onda della squadra e di fare subito bene, ma non era facile. Ho cercato di dare il massimo sempre e adesso sono molto contento di iniziare subito con loro. Sicuramente sarà un anno molto importante per me e per tutta la squadra. Sono due giocatori, tanto come Silvestre e come Zucanovis, che hanno un buon piede. Zucca calcia anche le punizioni molto bene, quindi dobbiamo noi sfruttare queste caratteristiche di loro. Non solo io, anche Eder è uno che attacca molto bene la profondità, molto rapido e sicuramente sarà un nostro punto di forza. Se vogliamo andare avanti, se vogliamo arrivare ai gruppi, non dobbiamo pensare ai rivali, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi per arrivare lì. Stiamo lavorando molto bene, questa preparazione sicuramente ci darà molto per queste partite. E vedo una squadra che ha tanta voglia e sicuramente farà molto bene.